Oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa San Francesco di Nicotera saranno celebrati i funerali di Michele Valerioti, il 68enne ucciso dal killer reo confesso Francesco Giuseppe Olivieri. Due ore più tardi, alle 18, nella cattedrale, si svolgeranno le esequide l'ottantenne Giuseppina Mollese. Svanita la paura alla città costiera del Vibonese, resta il dolore per quanto accaduto venerdì scorso, nessuno poteva immaginare che il 32enne, con problemi psichici, stesse covando un così profondo sentimento di odio e di vendetta nei confronti di persone che a suo dire sarebbero state implicate nell'omicidio di uno dei suoi fratelli, risalente al 1997. Nella lista nera, Vincenzo Timpano cercava lui quel pomeriggio al bar Ninos di Limbadi. Poi ha raggiunto il suo secondo obiettivo, Michele Valerioti, paziente oncologico. Gli ha aperto il portone, ignaro di ciò che stava accadendo e lo ha finito proprio su quel balcone. Pochi metri più avanti, imbracciando lo stesso fucile, ha raggiunto l'abitazione dell'ottantenne che ha aperto la porta di casa al suo assassino. L'anziana donna doveva essere eliminata per vendicare la morte del fratello. Ma la lista delle persone da ammazzare per sua stessa ambizione era ben più lunga. Al magistrato che lo ha interrogato, Francesco Giuseppe Olivieri, ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad uccidere. Ma nessuna parola su chi lo ha accompagnato da Spilinga, dove è stata rinvenuta la carcassa dell'auto completamente bruciata, alla casa circondariale di Vibo Valencia dove si è costituito. Gli inquirenti non hanno dubbi. Qualcuno lo ha protetto nei suoi tre giorni di latitanza. Al momento le indagini proseguono per individuare eventuali complici e trovare il fucile utilizzato dal killer per compiere il suo folle piano criminale. Cristina Iannuzzi per la CNews24